Il Fondo Pensioni della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele avvia il piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare. L'operazione prevede la vendita mediante asta pubblica di oltre 500 immobili di pregio, tra i quali edifici celoterra, appartamenti, immobili ad uso commerciale e terziario, siti nelle province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, Agrigento e Roma. Partecipare è facile. Consulte e dettagli sugli immobili in vendita, il disciplinare di gara, le schede dettagliate, la documentazione ed ulteriori informazioni utili per partecipare all'asta sul sito dedicato www.fondoccrve.it o chiama il numero verde 800 500 540.